Periferie e servizi sociali. Qual è l'idea che ha portato avanti la giunta di sinistra con l'assessore Maiorino che ricordo oggi è capolista del Partito Democratico, che mi sembra un po' distante da quel sala che io conosco e che dice apriamoci alla società civile, ritorniamo alla collaborazione pubblico e privato. C'è un problema molto concreto che purtroppo i milanesi conoscono. Tante famiglie, tantissime famiglie purtroppo oggi sono sul rischio del loro di povertà. Se noi andiamo al pane quotidiano e vediamo la fila che c'è, non vediamo solo immigrati, extracomunitari, drammaticamente vediamo padri e madri di famiglie che magari hanno perso un lavoro e non hanno da fare la spesa. Ed è un problema serio. Come si risponde? Questa è la differenza. Che tipo di risposta concreta noi diamo a Milano? La risposta di Maiorino è stato 3 milioni di euro, legittimi, per aiutare le famiglie che non possono. 1380 famiglie assistite. Qual è la ricchezza di Milano? Che Maiorino non comprende perché è la gestione che tutto deve essere fatto dal centro e dallo Stato. Che Milano ha una ricchezza nel suo territorio di associazioni di volontariato, ne ho citato uno al pane quotidiano, l'Arca, altrissime, che ogni giorno danno da mangiare a 56 mila persone. 3 milioni, 1380 famiglie, legittimo. 80 mila euro di contributi ricevono questa associazione l'anno, 56 mila persone. Allora, Sala deve dire, e Maiorino devono decidere se forse, a proposito di bilanci e l'amministrazione qua, avessero dato 500 mila euro, non 3 milioni di euro, a queste associazioni di volontariato, le avessero messe in rete. Forse non avremmo dato una risposta migliore. Ecco la differenza. Su questo tema la Lega, Salvini e Lupi sono totalmente d'accordo perché il privato, tra virgolette, sociale non è un male, è una ricchezza e tra l'altro Milano è il modello di questo.